ciao a tutti e bentornati a ti racconto una storia oggi per questo terzo episodio andiamo a leggere un'altra fiaba di esopo adatta a tutti gli studenti principianti avanzati e bambini la favola di oggi si chiama la lepre e la tartaruga di cosa parlerà mai questa storia ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con la lettura buon ascolto la lepre e la tartaruga c'era una volta in un bosco in un mite pomeriggio di primavera una lepre che amava vantarsi con gli altri animali della sua velocità la lepre era solita dire sempre sono la più veloce di tutti nella corsa nessuno può battermi cara lepre non essere troppo sicura di te stessa qualcun altro potrebbe vincere disse con una voce tremolante uno scogliattolo impossibile nessuno è mai riuscito a battermi fino ad ora io sono la più veloce in assoluto continuava ad affermare l'orgogliosa lepre ne sei davvero sicura ribatte da lontano una vecchia tartaruga mentre si avvicinava alla lepre a piccoli passi certo rispose la lepre senza pensarci due volte lo dimostrerò battendo chiunque voglia sfidarmi in una gara accetto la sfida allora disse la saggia tartaruga tu tartaruga vuoi sfidarmi domandò la lepre incredula pensando che la tartaruga si stesse prendendo gioco di lei sì proprio io hai paura di perdere lepre ribatte la tartaruga con un'aria di sfida non ho paura di perdere contro di te tartaruga è solo che mi sembra ovvio chi vincerà la gara replicò la lepre sorridendo così i due animali dopo aver deciso il percorso della gara che sarebbe avvenuta la mattina del giorno dopo si salutarono e la lepre disse alla tartaruga con un tono amichevole mi raccomando tartaruga riposati questa notte domani sarà una lunga e faticosa giornata buonanotte la tartaruga guardando la lepre nei suoi occhi blu rispose semplicemente con un buonanotte anche a te cara lepre la mattina seguente la lepre e la tartaruga si incontrarono al punto di partenza fecero un po di riscaldamento e poi un colpo di pistola diede il via alla corsa la lepre sfrecciò come un razzo velocissimo in pochi secondi era già lontanissima si voltò e vide che la tartaruga era ancora molto lontana allora la lepre si venisse a fare un sonnellino distesa sull'erba all'ombra di un albero tanto era sicura che una volta sveglia avrebbe raggiunto la tartaruga in un batter d'occhio quando la lepre si svegliò controllò subito a che punto fosse la tartaruga e vide che l'aveva appena superata oh povera tartaruga ci hai messo tutto questo tempo solo per raggiungermi pensò divertita la lepre annoiata la lepre decise di andare a fare pranzo a casa di alcuni suoi amici tanto avrebbe raggiunto la tartaruga con qualche semplice salto una volta finito di mangiare la lepre tutta felice e contenta era finalmente pronta a riprendere la gara e a vincere quando ritornò sul percorso però si accorse che la tartaruga passo dopo passo con quella pesante casa che trasportava sulla schiena era quasi arrivata al traguardo oh no non è possibile pensò sconvolta la lepre così iniziò a correre all'impazzata sperando di riuscire a superare la sua avversaria quando finalmente arrivò il traguardo però vide la tartaruga che la stava aspettando hai visto lepre sono riuscita ad arrivare prima di te le fece notare la tartaruga non avresti dovuto sottovalutarmi e avresti dovuto correre e arrivare alla fine il prima possibile senza distrarti la lepre triste e desolata pensò tartaruga ha ragione non avrei dovuto fare questo onnellino e andare a mangiare a casa dei miei amici anzi avrei dovuto vincere subito la gara così sarei potuta andare a festeggiare la vittoria con i miei amici e questa era la favola di esopo la lepre e la tartaruga siete riusciti a capire qual è la morale della favola se si scrivetela qui sotto nei commenti e noi ci vediamo domenica prossima con un'altra storia ciao a tutti grazie a tutti